Sera ragazzi, io sono Dav e oggi siamo qui in un video un po' speciale Per prima cosa vi devo ringraziare per i 121 iscritti e per le 5134 visualizzazioni Allora vi devo dire due cose molto importanti La prima è che domenica o al massimo lunedì metterò la fibra ottica e quindi dalla prossima settimana inizieranno delle live sul mio canale Twitch Quindi se voi cliccate qui su canale Twitch potrete andare alla pagina del mio canale appunto Dove potremo fare due chiacchiere e giocare a vari giochi che voi mi direte Poi cos'è la seconda cosa importante? Allora, visto che ho fatto molti iscritti e è un traguardo molto importante per me Ho deciso di fare un contest sul canale Che cosa potete vincere? Potete vincere o una copia di Minecraft Premium oppure una copia di Dead by the Light Un gioco molto famoso che ha avuto grande successo nel mio canale Allora, come farete a partecipare? Per prima cosa dovete mettere like e iscrivervi al mio canale E scrivere qua sotto nei commenti l'hashtag partecipodab L'estrazione avverrà mercoledì e niente che vinca il migliore Dunque spero che questo video possa esservi piaciuto E noi ci vediamo a un prossimo video Ciao a tutti ragazzi